Cosa preferisci a Pasqua? Uovo di cioccolato o colomba? Che regalo vorresti trovare dentro all'uovo? In occasione della Pasqua abbiamo chiesto ai cittadini ravennati quali sono le loro preferenze e desideri. Voi per la Pasqua preferite l'uovo o la colomba? L'uovo. Come? Cioccolato al latte fondente, nocciole? Va bene comunque, basta che sia un uovo gigantesco. Tu invece? Al latte. Quindi anche tu tra uovo e colomba, uovo e cioccolato al latte? Sì. E ricevi ancora le uova come regalo? Sì. Che cosa vorresti trovare nell'uovo? Mi interessa, basta che sia il cioccolato. E c'è lei che cosa vorrebbe trovare nell'uovo di cioccolato? Magari un bel assegno, così sorpresone. Mi accontento del cioccolato. Beh direi uovo sicuramente. Come? Cioccolato al latte fondente, nocciole? Il mio preferito è quello fondente con le nocciole, fondente però medio, dai un 70-80%, non troppo. Che cosa vorresti trovare nell'uovo? Ma non saprei. Magari un esame abbonato all'università non sarebbe male, visto che me ne aspettano tanti a giugno. E' uova. Come? Cioccolato al latte fondente, nocciole? Cioccolato al latte, kinder, preferito. Anche per me uovo e cioccolato però fondente. Che sorpresa vorresti trovare nell'uovo? Non ne ho idea, un gioiellino, non lo so, un portachiavi. Un pochino più di serenità nelle prossime settimane, dai, speriamo quello. E uova. Come? Cioccolato al latte fondente. Cioccolato al latte. Anche io uova, a colomba non mi piace, e cioccolato al latte. Ok. Come quello dei bambini. Ok. Che regalo vorresti trovare nell'uovo? Un po' di CFU. Un esame in più non sarebbe male. Un po' di fortuna, un po' meno sfiga magari. No, non saprei. Alla fine, boh. L'importante è la cioccolata. Grazie. Grazie.